niente amici dobbiamo dare per assodato che il streaming unlock to streaming è una cagata tremenda ragazzi non funziona, non streamiamo, non allocchiamo un cazzo ci abbiamo provato però detto questo ci aggiorniamo a giorni perché vi comunicheremo la data di uscita del repackaging di comunisti con Rolex e vi spiegheremo anche la modalità perché quest'anno per questo repack non faremo gli install ma abbiamo inventato una cosa carina amici devo rettificare perché in realtà lo stream to unlock è una figata assurda no in realtà mi hanno detto che manca veramente poco per sbloccare la traccia quindi vi rimetto il link qua sotto, continuate a streammare e tra poco vi sbloccheremo il regalo per voi ecco time